Avvicinare i giovani alla cultura della solidarietà, questo l'obiettivo della collaborazione tra Avis Provinciale e Unife per una campagna di sensibilizzazione sulla donazione del sangue che coinvolge scuole e università del territorio. Un progetto che ha visto la produzione di due video progettati e realizzati dalle studentesse e dagli studenti del Corso di Scienze della Comunicazione dell'Ateneo Estense. Abbiamo realizzato due filmati, uno d'animazione per i bambini e un altro, un filmato normale per i ragazzi anche dell'università. Quello per i bambini parla di un supereroe che è una figura emblematica per quanto riguarda appunto il mondo infantile e perché appunto riuscendo a fare una piccola azione ci si può sentire supereroi, come appunto facendo la donazione del sangue. Pensiamo che sensibilizzare i bambini sin dalla tenera età sia molto importante perché poi saranno i donatori del futuro. E poi un corto girato a Ferrara nei luoghi più caratteristici della città intitolato Non so per chi ma so perché. Sono una studentessa, ho partecipato a questo progetto come attrice, io ho fatto un po' di recitazione con il CTU, quindi il Centro Teatro Universitario e trovandomi molto bene ho deciso di partecipare a questo progetto. Questo video nasce da una leggenda secondo la quale due persone sono destinate, sono legate a stare insieme. Ecco perché poi nella trasposizione del video c'è questo filo rosso che appunto collega il donatore con il ricevente. Quindi l'idea, come dice anche lo slogan, è quella che io non so per chi lo faccio ma so perché. Cioè il fine è quello di poter fare qualcosa per una persona nonostante io non sappia effettivamente chi è. Uno degli obiettivi fondamentali è quello di poter raggiungere fasce di pubblico sempre più ampie, per questo investiamo sui giovani universitari. Ha sottolineato Gabriele Anania, vicepresidente di Avis Provinciale Ferrara e docente di Unife. Un progetto che assume valore anche in termini formativi. Io sono stata la tutor delle tirocinanti, abbiamo iniziato il percorso quest'estate e le abbiamo seguite proprio in tutte quelle che sono le fasi di realizzazione dei prodotti audiovisivi. Quindi partendo dalla loro idea le abbiamo supportate e abbiamo messo a loro disposizione le nostre competenze e la strumentazione per realizzare quello che Avis ha richiesto. Sì, questo è un progetto che è nato questa primavera, all'inizio dell'anno, e ha messo insieme Avis e Unife per creare una campagna di sensibilizzazione per la donazione di sangue. Quindi Avis si è rivolta a Scienze della Comunicazione, al nostro corso di studi, per fare una campagna con due video e noi abbiamo coinvolto facendo un contesto i nostri studenti che hanno creato il soggetto, poi fatto le riprese e realizzato i video e ora li presentiamo, li abbiamo presentati alla città.